anche a brognaturo salvatore renda con che strumento ciao gigi come si chiama questo strumento basso tuba basso tuba ci troviamo a brognaturo il 24 agosto del 2023 questa sera i focari domani mattina con gg alle 4 i tamburi in aria per le vie del paese adesso presentiamo suonare guardate ci sono dei bambini pure all'interno della banda quindi la musica non ha confini la musica c'è anche un signore che credo sia più anziano grazie a tutti